Quindi passo la parola all'amico Roland Krischel del Val Richard Museum, con cui ho avuto l'onore di collaborare per la sua bellissima mostra su Tintoretto e Star Was Born. E ci parlerà di questo, siamo tutti un po' eccitati, An Immoral Landscape for Pietro Aretino, punto di domanda, Tintoretto's Newly Discovered, Susanna and the Edge. Grazie. Grazie tantissime, Stefania. Ladies and gentlemen, dear colleagues, how wonderful to finally meet again in presence. Please let me first of all say a heartfelt thank you to the organizers of this conference, especially Professor Martina Frank, Guardiangrando Franco Posocco, Professor Andrea Rinaldo, Professor Francesca Ghedini and Dr. Sebastiano Pedrocco. Thank you very much indeed for having kindly invited me. It is a pleasure and an honor to speak to you today. As a background for sacred or secular narratives, landscape is omnipresent in Tintoretto's early work. Sometimes it even dominates a composition. For example, in the Garden Labyrinth, begun around 1538 and completed more than 10 years later. Contrary to first impression, this canvas does not present an early modern amusement park, but a complicated moral allegory on the course of human life. Equally difficult to identify, albeit for different reasons, is the subject matter of a much smaller landscape painting, created around 1541-1542. This depiction seems to oscillate deliberately between a psyche awakening in Amor's garden and a Susanna preparing for her bath. Harking back to illustrations in the Hypnoroto Machia Polyphili and in Serlio's Regole Generale, Tintoretto's perspective construction of the garden has a distinctly theatrical note. A similarly constructed landscape, maybe a stage design, appears in a marginal sketch in one of his many drawings after a sculptural group of Samson and the Philistines. Only recently, a huge and highly ambitious garden landscape by Tintoretto turned up in a private collection. This canvas in cinemascope format of 1,70m by 3m clearly shows Susanna in her garden. Here, as elsewhere, Tintoretto cleverly combines several storylines while strictly observing the Aristotelian unities of place, time, and action. Joachim's wife is seen on the left preparing for her bath. While one of her maids is still busy taking off Susanna's red stockings, the other is shown in the background, entering the pergola on the way to the house to fetch oil and balms. The two lecherous elders have not yet become aware of sharing the same improper passion. One crouches in the foreground, hidden behind dense vegetation and secretly observing Susanna, while the other approaches from behind in the shadow of a dramatically foreshortened hedge. Soon they will meet, confess to each other, and conspire against Susanna, whom they will try to sexually coerce. In the background, the centrally shown pergola from the smaller panel picture is modified. Again, a woodcut from the Hypnorothomachia polyphilly comes to mind as a possible visual source. The villa at the left features a Renaissance gable, reddish pastelona plaster, a terrace, a dovecoat, and gully at the corners of the roof. Close to the villa, a highly original garden wall with niches and openings is shown in cool blue shadow. Its proportions and design are derived from the ceiling in the refectory of San Salvador, decorated in summer 1545 by Fermo Gisoni, a pupil of Giulio Romano. It seems reasonable to assume that Jacopo's painting was executed not long afterwards, that is to say, around 1546. Together with the pictures format, the eccentric placement of the vanishing point allows for some speculation concerning the painting's original installation. Being a rather blatantly erotic painting, Tintoretto Susanna was certainly not destined to decorate a church or the house of some confraternity, but rather some private Venetian home. Size and proportions are typical for a portico painting. Obviously, Jacopo applied the same compositional principle that can be observed in his Laterali for churches, placing the vanishing point close to that side of the picture from where the beholder approached it. Here then, Tintoretto expected the beholder to come from the right. Somewhere on the left, there must have been windows through which the canvas received its natural illumination, prolonged by Jacopo into the picture's composition as is indicated by the light of Susanna's barely visible back and by the shadow of the hedge cast towards the right. As we have seen, the vanishing point lies outside Susanna's garden. There, palm trees evoke the surrounding wilderness. Erroneously, Tintoretto shows ramifications in the treetop. Nevertheless, it cannot be excluded that he was able to see real palm trees himself. More and more of them could be found in Italian gardens during Jacopo's lifetime, according to the testimony of Pier Andrea Mattioli. The depiction of several other trees and plants confirms that Jacopo paid close attention to Mediterranean garden flora while at the same time taking liberties in reproducing it. The foreground watercourse and the plants bordering it recall an older, mythological landscape picture to Nymphs or Jupiter and Callisto by Palma Vecchio, a painting which virtually haunted Tintoretto, leaving traces in several of his mid-century works. A comparable display of more or less accurately depicted plants can be found in the foreground of Tintoretto's Assunta, painted circa 1555 and conserved at Bamberg's obere Pfarrkirche. One flower appears both in the Assunta, here a detail on the left, and in the Susanna, detail at the right. It has a rather long, slender stem and white petals. Concerning the Bamberg painting, Erasmus Werdigen, who is here among us today, proposed to identify it as Leucanthemum or as Tanachetum. Tanachetum generarii folium seems indeed a plausible choice. Other plants in the Susanna painting might tentatively be identified as Stratiotes Aloeides, Arum Italicum, Adiantum Pedatum, and Rosa Bifera respectively. The dominant plant serving as cover for the crouching voyeur is Zambucus nigra. According to Petrus Bechorius, it symbolizes sin and hypocrisy, which would perfectly fit the behavior of the two biblical elders. Finally, there is a tree cut off by the upper edge of the composition and easily recognizable as Ficus Carica, much favored since antiquity in the whole Mediterranean for its sweet fruit and generous shadow. For a Venetian painter like Tintoretto, it would have suggested itself to set up this park at Murano or on the Giudecca. And yet, we have no visual contact here with the city of Venice. Joachim's house is no city palace used for court hearings, but clearly an isolated villa in the countryside. Suggesting the transfer of the plot from the city of Babylon to the Venetian mainland, Tintoretto, usually a very precise reader of the holy scriptures, departs from the Bible in a noticeable way. 1545 saw the birth of the Proveditori Soprabeni in Kulti, a new Venetian magistrate responsible for technical and legal supervision of land reclamation on the terra firma. In the light of Tintoretto's sensitivity to changes in the political and religious climate of his habitat, it seems reasonable to interpret his rediscovered Susanna as a reflection of the recent fundamental shift in Venetian economic policy. However, Jacopo's painting does not confirm the ideological stance taken up by Venetian agricultural capitalists like Alvise Cornaro, who had coined the notion of Santa Agricultura. To put it in Panofskian terms, Jacopo's Susanna is not a paysage moralisé such as his garden labyrinth, but an immoral or even pornographic landscape. In Tintoretto's painting, the two protrusions elected as Proveditori for one year become two elders elected as judges for one year. Instead of inspecting it, I quote, those places that could be watered, drained, irrigated, and cultivated, they inspect a naked woman. Comparison seems to be made between two gestures of appropriation, conquest of the female body and colonization of the terra firma. Accordingly, the crouching elder's male gaze is shamelessly directed between Susanna's legs becomes, for us, a perspective view into the background arbor, representing domesticated nature. Close attention, close association between the female genital and the garden can be encountered in the biblical Song of Songs as well as in ancient Greece. but it is also familiar from the metaphors used by Pietro Aretino in the Ragionamento of 1534 and the Dialogo of 1536. On the first day of the Dialogo when Nanna, in the translation of Raymond Rosenthal, teaches her daughter Pippa the art of being a whore, contact with the client is commented as follows and I quote, but don't let him scythe your garden unless he pays for the ground he wants to sow with his seed. This strange nexus between vinyl love and agricultural economics resonates in Jacopo's painting. The left foreground of the picture features a gold colored textile with a very specific net-like pattern which reappears as Peter Humphrey observed in Tintoretto's Breakthrough Miracle of the Slave 1547-48. Combined with a female nude shown in frivolous posture this dress will have evoked in the eyes of Tintoretto's contemporaries the net of a prostitute flung out to catch clients. See for instance the net-like veils in the portraits of Venetian courtesans painted by Domenico Tintoretto such as the so-called Veronica Franco in the Worcester Art Museum in Massachusetts and a woman posing as Flora at the Prado in Madrid. Other details of composition further compromise Susanna as can be deduced from contemporary sources her faux blonde hair and complicated headdress were looked upon as a labyrinth for male hearts. Even the villa has a telltale headdress. Joachim's house is a casa cornuta so to speak denouncing him as a cuckold. The strange garden wall in turn indicates that Susanna's topical Hortus conclusus has a perforated enclosure effectively undermining her innocence. By transforming certain ovati bis longi of the ceiling at San Salvador into niches Jacopo seems to allude to an aesthetically related project. Giorgio Vasari's theatre decoration for the staging of Pietro Aretino's L'Atalanta in 1542. From the Bible Tintoretto has cunningly switched to Aretino. The satirical undertone of his painting as dubious as it may seem from today's viewpoint anticipates the social and ideological criticism of Villegiatura put forward in 1566 by Anton Francesco Doni. Ultimately Jacopo Susanna might well be regarded as a subversive counterpart to the serene landscapes painted al fresco by Lombard Sustres and Gualtiero Padovano circa 1540 1541 in Alvise Cornaro's Odeo. The victim blaming apparent in Jacopo's newly discovered painting corresponds with a widespread feminist critique of Tintoretto's famous Vienna Susanna of 1555. Both paintings are clearly linked in terms of composition as the reuse of the steeply foreshortened hedge illustrates. And the female protagonist of the Vienna painting could easily be misunderstood as an allegory of luxury or self-pampering. But both pictures also include a certain counterpoise to this Susanna blaming. Thus the foremost elder in either composition is crouching on the earth, having forsaken walking upright and moving instead like a snake in paradise. A preparatory drawing shows that Tintoretto worked intensely on the position of body and limbs before finding a figure which he would reuse seen from another angle as one of the torturers in the miracle of the slave. How did Jacopo conceive the indecent posture of Susanna provisionally justified by the gesture of the female servant. No preparatory drawing for this figure has been found so far but we can identify the template Tintoretto used as one of the 16 infamous modi drawn by Giulio Romano in 1524 immediately engraved by Marcantonio Raimondi and congenially transformed into sonnets by Pietro Aretino. The closest we get to the print seen and used by Tintoretto is an anonymous woodcut in a 16th century booklet where reversed copies after Marcantonio's engravings are combined with Aretino's poems. Like Tintoretto's painting this position has an open air setting. Aretino's corresponding sonnet one of those put into music by Michael Nyman explicitly mentions the lifted up leg and in the dialogue invented by Aretino the woman addresses her partner expressly as vecchione a term appearing nowhere else in these sonnets. Obviously Jacopo a lifelong admirer of Giulio's work chose this very couple on purpose separating man and woman transforming her into Susanna and him into another vecchione well known from the Bible. Tintoretto's rediscovered work brazenly undermines the triumph of chastity celebrated by the Susanna story exploiting and exaggerating certain eroticizing tendencies of the biblical tale itself. Thus it subverts the usual function of the quadro da partigo which was expected to represent virtue and values of a family through a suitably moralizing content. Who might have dared to decorate his portigo with such an irreverent picture? There are manifold allusions in this painting to erotic literature produced by one highly influential author living in Venice since 1527 Pietro Aretino. As is well known Tintoretto was in close contact with Aretino during the 1540s when the latter was living at Cabolani on the Grand Canal not far from Rialto. Early in 1545 Jacopo had painted two mythological pictures for the ceiling of Aretino's bedroom. They were paid off by a letter in which Aretino publicly praised these works. Did Jacopo present him with another picture in late 1546 or early 1547 systematically preparing the ground for the critical acclaim of his monumental miracle of the slave? As an allusion both to the infamous modi and to the corresponding sonnets the Susanna painting would have been a perfect present for Giulio Romano's most fervent supporter in Venice. It seems very tempting indeed to imagine this picture as being installed in Pietro Aretino's habitation at Cabolani. Inside a long corridor giving access to three rooms office bedroom and kitchen finally led to a portico with three arched windows facing the grand canal and opening onto a balconatina. A digital scale model kindly worked out by Professor Stefan Neuner Berlin University of the Arts shows the canvas in this room. As we can see the portico's northwestern wall would have been a perfect place for the Susanna painting. Anyone entering through the corridor would have approached the picture from the right precisely as indicated by the composition. in fact the figure of the walking elder corresponds with a visitor arriving just as the steeply foreshortened space at the right of the hedge corresponds to the corridor in Aretino's flat. Furthermore, the lighting direction chosen by Tintoretto would have perfectly corresponded with the nearest and most prominent source of natural light, the three arched windows facing the Canal Grande. Significantly, this very group of windows reappears together with the balconatina on the facade of the villa in the painting's background. According to Georgina Masson, Aretino ended his ragionamenti with one of the most charming descriptions of a garden ever written. Aretino, she stated, not only knew about plants but also how gardeners talk. Some of the plants in Nanna's garden can be found in Susanna's garden as well, such as the rose and the fig. Maybe Tintoretto thoughtfully provided a garden view for Aretino's Venetian flat while at the same time paying homage to its resident, both as a prolific author of religious writings and a virtuoso pornographer. Being a satirical combination of biblical story, pornographic imagination and deconstruction of villegiatura lifestyle, Tintoretto's painting would have been a whimsical conversation piece for Aretino and his illustrious guests. Thank you for your kind attention. Thank you so much for this anatomia patologica di un dipinto che penso sarà oggetto di molte discussioni e di domande più avanti. Ora invito Laura De Fuccia a starsi. Laura De Fuccia è stata mia allieva a Udine e poi indottorato con Michelle Accoman ora insegna arte del rinascimento all'Institut Catholique di Parigi e ci parlerà della tempeste di mare nella produzione sacra di Tintoretto. Prego Laura. Ringrazio innanzitutto gli organizzatori e Stefania Amazon per questa presentazione perché è l'occasione di presentare dei temi che mi sono cari sul paesaggio. Si intende attualmente a rivalutare il ruolo assunto del pensiero religioso nell'evoluzione della rappresentazione del rapporto tra l'uomo e la natura nella pittura di paesaggio ma anche proprio nello suo sviluppo nel periodo moderno. Questo intervento vorrebbe concentrarsi più particolarmente sul motivo iconografico del mare in tempesta nella produzione sacra di Tintoretto a partire da un'analisi del San Marco che salva un saraceno durante un naufragio conservato alle gallerie dell'accademia. Seppur poco frequente nella sua produzione questo genere di rappresentazioni di una fortuna di mare permette all'artista di offrire un'articolazione complessa semantica intrisa di effetti luministici che contribuiscono ad accentuare probabilmente il significato simbolico in questa immagine un po' visionaria che ci offre nel dipinto introducendo quindi un tema iconografico che sarà poi ripreso nella cerchia dell'artista per esempio nel Cristo sul mare in Galilea che è stato anche presentato da Michel Ockmann nella sua allocuzione e che è stato in tempi recenti attribuito a Lambert Sustris ma anche nel sogno di San Marco che è stato commissionato con certezza a Jacopo ma che è stato probabilmente realizzato poi dal figlio Domenico nonostante la particolare configurazione della città che è fondata tra terra e mare potremmo aspettarci a un numero più ampio forse di rappresentazioni marittime ora le scene marittime non sono invece frequenti nella iconografia del paesaggio veneziano nel rinascimento persino nella produzione di artisti che sono noti per aver avuto una sensibilità particolare per questo genere pittorico per esempio Giorgione Tiziano Campagnola Ocima da Conegliano sono degli artisti che sono citati anche in ambiti accademici fino a Manet Cabanel come esempi magistrali di pittori di paesaggio e per quanto potremmo per esempio presentare qui un campione ridotto di dipinti il concerto campestre attribuito a Giorgione ancora fino al secolo scorso e poi oggi attribuito a Tiziano o opere anche minori in un certo senso come questa che è conservata in Francia a Giorgione sono state considerate degli esempi magistrali per la rappresentazione della pittura di paesaggio tanto è vero come vedete qui che Philippe Champagne presenta l'opera nel 1671 proprio con una particolare ammirazione per il paesaggio e ne fa un po' lo standard di una che era il solo colori che nascerà in seno all'accademia francese nel 1600 quindi questi esempi sono quelli che sono forse più ricchi di conseguenze per la pittura successiva e alcuni ne avete alla mostra oggi di Tiziano alla Galleria dell'Accademia ora si tratta di scene campestre collinari intrise di tinte armoniose in atmosfere idilliche che rievocano più naturalmente la terraferma che è stata molto citata in questo convegno e visioni arcadiche di ascendenza letteraria classiche ispirate all'ideale del locus a minus ora i dipinti su cui vorremmo soffermarci oggi non rientra tanto in questa categoria non rientra neanche nella categoria che anche Tom Nichols ha evocato ieri del paesaggio urbano veneziano e esplora un'altra immagine di Venezia stravagante capriccioso presto e risoluto il più terribile cervello che abbia mai avuto la pittura nel ricordo di Giorgio Vasari Tintoretto sembra avere un approccio innovativo anche rispetto alla rappresentazione di una vasta distesa marina un'ambientazione che quindi risulta atipica e su cui vorremmo soffermarci oggi in relazione soprattutto al suo contributo per l'evoluzione della pittura di paesaggio si tratta di una tela di grande qualità esecutiva il dipinto accorda infatti un'attenzione insolitamente rilevante nel suo catalogo alla rappresentazione della marina in più la socia a questa idea della tempesta il dipinto si inserisce come noto nel ciclo consacrato alla scuola di San Marco in campo santi Giovanni e Paolo e realizzata su richiesta del medico e filosofo Tommaso Rangone come noto in seguito alla sua lezione a Guardia Grande nel 1562 Rangone aveva ottenuto dai confratelli l'autorizzazione per far realizzare a sue spese tre tele quindi questa che è conservata alle gallerie dell'Accademia poi il San Marco che salva il trafugamento scusate del corpo di San Marco conservato anch'esso alle gallerie dell'Accademia e il ritrovamento del corpo di San Marco in due di questi teleri che rappresentano tutti episodi postumi della geografia marciana il paesaggio contribuisce considerevolmente ad accentuare il carattere visionario ma anche simbolico della composizione quindi gioca un ruolo principale nel trafugamento del corpo di San Marco i cristiani di Alessandria si accingono a sottrarre il corpo del santo dal rogo quando una tempesta provvidenziale interviene in loro aiuto spegnendo miracolosamente le fiamme che dovevano arderlo e mettendo in fuga i persecutori nubi minacciosi si vedono all'orizzonte chiudono quasi la parte superiore della tela che è come una scatola architettonica chiusa in alto da un cielo che è costituito da colori un po' sorprendenti tinti di rosso con nuvole scure con riflessi verdi che si stagliano su questo cielo infuocato il dipinto rappresenta il miracoloso salvataggio nel dipinto che trattiamo oggi l'aspetto narrativo associato al ruolo assunto dal paesaggio è accentuato perché la tempesta come viene raccontato da Jacopo da Varagine nella leggenda aurea serve a dissolvere a risolvere una situazione drammatica in cui si trovavano i veneziani e un gruppo di saraceni durante questa tempesta che colpisce un vascello di proprietà di saraceni solo i veneziani riescono a salvarsi mentre i saraceni sono quasi tutti destinati a perire nel nubifragio tranne uno che viene salvato miracolosamente da San Marco perché aveva fatto voto se fosse riuscito a salvarsi di battezzarsi nella basilica marciana nel racconto di Jacopo da Varagine il santo sarebbe apparso vestito di luce al saraceno sottraendolo dalle acque e trasportandolo nella barca su cui si trovavano i veneziani nella trasposizione del racconto nel telero l'elemento naturale occupa allora una posizione principale un telero che è peraltro di dimensioni ambiziose e in cui quindi questa rappresentazione della tempesta ha un ruolo veramente molto impressionante rispetto all'osservatore le figure sono dipinte in balia di una tempesta che occupa gran parte della tela superiore dove i venti fuoribondi scuotono le cupe onde del mare reschiarate solo da lampi di luce e dalle creste bianche delle onde dei gorghi che si creano in superficie nel mare le nubi scuri sovrastano il paesaggio marino e si riflettono quindi nelle acque dando una totalità un po' più scura alla rappresentazione del mare nell'agitazione dominante della composizione come nel racconto di Jacopo da Varagine il corpo del naufrago Saraceno è miracolosamente sospeso tra terra e mare è sollevato dalla figura di San Marco ed è posto nel vascello dei veneziani quello che sarà quindi portato in salvo mentre gli altri muoiono intorno cercano di salvarsi ma in vano una tale importanza accordata alla rappresentazione di una marina in tempesta e quindi poco frequente nella produzione di Tintoretto anche abbastanza poco frequente nella pittura veneziana in generale e l'aspetto anche l'interesse che Tintoretto poteva avere per questa tempesta anche da un punto di vista narrativo in associazione al dibattito sul paragone ha fatto l'oggetto di studi di Pascal Dubius che viene purtroppo che ci ha lasciati ma che ha lasciato una monografia che era a buon punto e che sarà pubblicata a posto ma nei prossimi mesi ed era appunto un tema in cui tratta del tema della tempesta associata ad esempi come questo in cui spiega come gli artisti si confrontano col tema del paragone nella rappresentazione degli eventi atmosferici che era quindi propria ai pittori rispetto agli artisti per esempio agli scultori quindi non mi soffermerai su questo aspetto che sarà tra l'altro trattato credo dalla mia collega più tardi nella giornata e vorrei concentrarmi invece sulla scelta di questo episodio che è forse un po' sorprendente anche se la sua presenza ha fatto oggetto quindi di varie ipotesi in passato che noi evocheremo anche è una scena che è insolita nella tradizione dell'iconografia marciana per quanto è repertoriata nei racconti perché abbiamo detto che è un racconto presente nel celebre discorso di Jacopo da Varagine ma è invece sorprendentemente poco presente per esempio nell'iconografia medievale secondo il repertorio che è stato fatto da Louis Réau o da Thomas Dale che ha approfondito questo tema quindi una scelta un po' atipica che potrebbe spiegarsi in parte ma su cui ci interesserebbe ritornare per quanto per esempio si sia tenuto a sottolineare in passato come i tre tellieri siano caratterizzati da un senso unitario dello spazio la tela di San Marco in realtà si discossa da un punto di vista compositivo dalle altre due richieste da Rangone sebbene anche per quanto i restauri del 1959 abbiano evidenziato sul verso della tela una composizione architettonica e quindi poteva lasciare pensare che all'inizio questa tela avesse la stessa struttura delle altre due questa impaginazione che era forse legata a un'idea originaria scompare nella parte finale che quindi offre solo una visione di scena di mare aperto quindi si tratta forse di un cambiamento in corso d'opera in ogni caso allo stato attuale c'è una certa incoerenza dal punto di vista compositivo apparente perlomeno sono da quindi e per di più anche da un punto di vista del tema l'idea del ritrovamento del corpo di San Marco e del trafugamento del corpo di San Marco sembra un po' discostarsi dalla scelta del salvataggio da parte del Saraceno che è quindi un episodio raro non è particolarmente ben collegato in apparenza agli altri due e pone qualche questione su cui vorremmo concentrarci oggi dunque è probabile come è stato anche notato in passato che nella scelta di questo tema iconografico da parte del committente abbia pesato un precedente importante di una rappresentazione di una borrasca di mare che era già conservata nella stanza attigua la stanza dell'albergo della stessa scuola di San Marco e quindi una stanza più piccola ben conosciuta che era stata dipinta già in precedenza e che presentava anche questo tema un po' atipico della tempesta stavolta però associata a un altro soggetto non si trattava dello stesso tema anche se si trattava dell'idea della fortuna di mare perché in questo caso si trattava di una rappresentazione ispirata dalla leggenda del pescatore che rappresenta quindi un episodio descritto da una cronaca di un avvenimento risalente al 1341 e che era stata trascritta di recente nella mariegola della scuola di San Marco nel 1498 si riferisce quindi a un altro evento miracoloso associato alla figura di San Marco che rappresenta una tempesta stavolta San Marco accompagnato dai Santi Nicola e Giorgio e secondo la leggenda durante ancora una volta uno spaventoso nubi di riaggio un pescatore aveva accettato di traghettare uno sconosciuto dalla bocca del porto del Lido fino a San Giorgio Maggiore aveva poi accolto sulla sua barca un secondo sconosciuto un giovane guerriero per infine arrivare a San Nicolo del Lido dove un terzo individuo era salito sull'imbarcazione e stavolta un uomo anziano i tre uomini rilevano la loro identità solo nel momento in cui riescono a calmare la tempesta con il segno della croce allontanando quindi i demoni che si ne avvistono nell'imbarcazione Venezia quindi è salvata dall'intervento dei tre Santi Protettori Marco, Giorgio e Nicola e ancora una volta il tema della tempesta è associato quindi a un episodio importante legato alla storia di Venezia così come un altro episodio fondamentale della storia di Venezia era naturalmente quello raccontato da un altro dipinto realizzato nella cerchia di Tintoretto che è quello del sogno di San Marco commissionato quindi nel 1585 a Tintoretto e poi realizzato solo più tardi probabilmente da Domenico e quindi in fondo ancora una volta una tempesta epocale straordinaria che lega la scelta di questi soggetti a una struttura aperta al pubblico che si rifà alla tradizione marciana e alla tradizione delle istituzioni repubblicane il sogno di San Marco contrariamente al San Marco che salva un saraceno era per esempio presente nella Basilica di San Marco ed era quindi un tema più conosciuto più frequentemente rappresentato ma poteva in qualche modo costituire anche un precedente per la realizzazione e la scelta della scena del San Marco che salva un saraceno per cui la presenza di questi tre elementi queste tre tempeste tempeste straordinarie in cui c'è un rapporto visionario abbastanza innovativo tra la figura e la figura umana e il paesaggio sembra lasciare degli indizi che ci lasciano pensare che in una prospettiva più ampia tutti questi dipinti si possano riunire in un corpus di opere che si rifanno a racconti marciani legati che l'ha predestinato su cui Gabriele Matino ha molto lavorato e che tenevo quindi qua a citare quindi predestinazione per eccellenza è ovviamente quella presente nel sogno di San Marco in effetti grazie al profetico annuncio dell'angelo a San Marco Venezia avrà l'opportunità di poter accogliere in seguito le spoglie di San Marco che sarà quindi destinato a ritornare al luogo in cui questo annuncio dell'angelo si è manifestato c'è quindi un legame molto forte tra l'idea della predestinazione della fondazione della città legato alla rappresentazione di tempeste e di marine e poi lo spostamento del corpo di San Marco che quindi potrebbe anche evocare la traslazio che sarebbe quindi suggerita dal trafugamento e dal trasporto del corpo di San Marco che abbiamo citato quindi tre dipinti in realtà potrebbero essere collegati da quest'idea della predestinazione e della traslazio e non è un caso che comunque ogni volta che si tratta di dipinti dove compaiono paesaggi marini in cui c'è una componente marittima molto importante ci sembra di poter rilevare un legame con questa idea della presenza di San Marco e quindi della predestinazione e della traslazio in senso molto più ampio vi faccio qui qualche esempio perché sembrano abbastanza significativi per quanto distanti da un punto di vista iconografico per esempio il Giovanni in questo dipinto di cima da Conegliano San Marco in trono tra i santi Luigi Vescovo e Andrea la temperanza e la giustizia che inizialmente erano tutti collegati in un solo supporto su una superficie che era molto ampia che doveva fare ben più di sei metri di larghezza se considerate che anche adesso che è tagliata è abbastanza grande un altro dipinto che è stato restaurato grazie a Sei Venice nel 2006-2007 che ha permesso di mettere un nuovo accento sulla presenza di questa marina che era stata un po' trascurata perché considerata di scarsa qualità poco atmosferica quindi forse considerata come un intervento non per forza autografo di Tintoretto ma che ha ripreso un certo dinamismo dopo i restauri e quindi ci sembra interessante rimetterla in risottolineare la sua importanza così come conoscete naturalmente bene anche il leone di San Marco conservato a Venezia al palazzo locale o dipinti come questo dove il San Marco porge il suo standardo a Venezia e che è conservato anch'esso alle gallerie dell'Accademia che è dipinto da Bonifacio o Depitati come questi esempi possono servire a dimostrare la rappresentazione dell'elemento figurativo della veduta lagonare per quanto non sia estremamente frequente sembra però strettamente associato nell'ambito di commissioni pubbliche in strutture semireligiose in ogni caso aperte al pubblico alla figura di San Marco a sua volta strettamente legato alla difesa delle istituzioni della Repubblica e anche parallelamente alla fede e all'appartenenza religiosa la solenne presenza del Santo o la sua evocazione simbolica tramite la rappresentazione di Leone Marciano in ambientazioni marittime o di San Marco stesso ribadiscono quasi l'identità politica e religiosa della città oltre che la legittimità delle istituzioni e del loro operato e così l'insolita veduta che vi ho mostrato prima di Cima da Corneliano è per esempio destinata al magistrato della camera dell'armamento a Palazzo Ducalo così come il Leone di Carpaccio era pure destinato a una istituzione di magistratura in particolare alla sala dei magistrati del Dazio del VIN a Riva del Ferro e il dipinto di Bonifacio lui si trovava nella sala del magistrato della Monte del Sussidio quindi quando c'è una laguna associata a San Marco si giustifica in qualche modo la legittimità delle istituzioni in cui questi dipinti sono sono presenti il teleuro di San Marco che salva un saraceno potrebbe quindi alludere grazie alla presenza di questo tema della veduta ai temi della predestinazione della giustizia della traslazio del corpo di San Marco ma evidentemente Tintoretto ne dà questa nuova visione che è completamente legata a una visione più drammatica che gli è propria e che rinnova un insieme di corpus di opere sull'ambientazione marina che pure era esistente anche se poco frequente sarebbe però forse importante sottolineare come per quanto ci sia un legame con la rappresentazione della con la rappresentazione del tema della traslazio i contrasti luminosi aggiungono un elemento importante che può connotarsi comunque in modo religioso forse un po' più importante rispetto alle scene che abbiamo visto finora i contrasti luminosi amplificano in effetti magistralmente la metafora di un'oscurità della tempesta sono immagini di tempeste e tenebre spirituali e demoniache che sono schiarite da una folgorazione luminosa dall'intenso significato religioso si tratta di tenebre e demoniache agitatrici di tempeste che sono quindi dissolte dalla luce divina per intercessione del santo protettore della città si tratta tra l'altro di un periodo che era particolarmente legato a questi temi della tempesta spirituale se si pensa che è l'epoca in cui si chiude il concilio di Trento nel 1563 l'interpretazione teologica di questo motivo iconografico non passava tra l'altro inosservato ai contemporanei se si pensa che qualche tempo più tardi nelle meraviglie dell'arte di Carlo Ridolfi Ridolfi metteva in relazione questa rappresentazione con la paura che solo la fede può dissipare e la cui intensità può essere tale da poter salvare solo quanti si siano pronti ad abbracciare la fede quindi in questo dipinto si vedeva a lungo tempo una rappresentazione della fragilità dell'umanità in preda alla tempesta che contrasta quindi con il poderoso intervento divino che viene a dissolvere queste difficoltà se quindi in conclusione il modello paesaggistico del locus amenus è saldamente documentato nella tradizione paesistica veneziana Tinto Eretto si fa interprete in alcune tele di un'iconografia che si affranca dal modello arcadico e virgiliano per introdurre motivi iconografici per la cui autorevolezza non si poteva solo riferire all'antichità ma comunque alla geografia e a dei miti fondatrici del mito della Repubblica di Venezia quindi si poteva offrire in qualche modo un altro modello di autorità in alternativa a quello del mondo classico la geografia marciana nel celebrare la figura del santo come simbolo della serenissima protettore delle sue genti permette quindi un'inedita apertura per nuove visioni paesistiche e apre la via a nuove rappresentazioni come quella che abbiamo citato in precedenza e che è stata anche presentata da Michelle Lockman del Cristo sul mare di Galilea vi ringrazio grazie Laura per questo interessantissimo tema e ci meritiamo il caffè perché siamo stati puntuali e quindi va bene ci vediamo fra un quarto d'ora penso grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti